Allora a parte il fatto che porca troia non so come si apra sto cazzo di merda di tapparella, porca troia non so... Allora questa cos'è la maglietta di... della Radio Bocconi, Radio Bocconi, fra poco su Instagram un mio Instagram... Why, 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 why you want to know where I am in which city I am? Perché cazzo vuoi sapere in che città sono? Vaffanculo, non te ne devi affrontare un cazzo dove in che città sono? Ma poi Dio porca avete l'intelligenza di capire se mi io non voglio fare foto con nessuno non voglio fare un cazzo con nessuno oggi ho dimenticato gli occhiali ma se per vostra forma mi incontrate evitate di chiedermi foto non voglio vedere nessuno figa porca troia! Sorry 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 this is a messaggio lì fuori dalla piba fra l'altro I have a big faiga that is waiting for me allora per gli italiani cioè non chiedetevi foto un cazzo un cazzo io non voglio vedere nessuno adesso è una figa che mi aspetta e il motivo è questo il di preismo è una religione e infatti adesso vi chiede l'otto per mille ma cazzo è normale che non voglio vedere nessuno ma secondo voi perché papa francesco non vede nessuno non vuole vedere nessuno porca troia c'è figa e ai privilegi che sono ingiusti certo che è figa dimenticare gli occhiali porca troia ce ne vuole era proprio catafratto per fortuna ho lo zainetto di bifloating io che vi taggo vi taggo comunque che mi accompagna sempre veramente simpatico e stupendo sto dentro di pre dai ultimo messaggio allora ma ve lo dire gli italiani cioè il foto normale perché qua sovrapprende da un paese come l'Italia che ha ancora il pd il pdl cazzo i cinque stelle di ma che cazzo è un messaggio per i dipraisti non andate a votare te gusta il dipraismo? enjoy dipraismo I usually dress dress mark show like polo gang but I have this sophisticated dress like this not because because I take the most expensive enjoy dipraismo you have not to want to know where I am because the only thing is only my real Moncler non ti devo imporare dove cazzo sono quello che conta è solo il mio stupendo Moncler ma poi ma poi ma poi ma di che cazzo stiamo parlando io ho creato una religione qui si parla di religione qui si parla di religione di metafisica dioporto è figa why 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 do you want to know where I am to end? the only thing the only imposter is my Moncler fra l'altro ho pure dimenticato gli occhiali porca troia c'è non è il cazzo di mettere questi non è il cazzo di mettere questi babà c'è il diporre di prisma o lì di prisma o lì lì ma come cazzo si fa a dimenticare gli occhiali ne ho di gialli di rossi di blu di un po' proprio oggi comunque ho tanti cellulari ne ho 5 o 6 tutti di last generation potentissimi e quindi posso fare storia comunque one two and with special effects ok now I have to meet a very very a very very cool girl but I have to make an official message in two languages english and italian for the election in Italy in the next hour il messaggio solo in italiano è questo non andate a votare fino a quando nessun soggetto politico dipreista sarà presente siccome non ci sarà un cazzo di dipreismo non andate a votare questo è il messaggio ufficiale dell'avvocato è stato un bel termine l'avvocato andate a votare che non puoi e non puoi sembr quale